Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2 Genitore 1, genitore 2 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 Guarda!